salve a tutti i ragazzi qui per il sito insieme a nessuno e non mi mette a qualcuno insomma e xdc 2x satore testo e siamo con il terzo episodio ma qui ci sono dei bric la terza barquato episodio e sto combattendo contro sto morrendo di fame per saranno solito per no per te vendetta ma non ha anche la zabbina non ci posso credere con lei tutto addosso pesato ma stai salendo no sono sono sull'isola non mosto pescando uno scheletro l'ho pestato anche stato barca la catina dimostri qualcuno venga ad aiutarmi eo due cuori che ti può consolare e sopra tutte le cose di chiudere in casa non ha fatto la casa c'è il tetto no iiii ma non voli gli zommi non volano c'è il tetto rani fio c'è il tetto c'è il tetto il cliente benissimo chiuso e con questo inizio catastrofico intanto per recuperare la fame trofico per te esatto proprio quello che intendevo inizio il terzo episodio del serie nella survival island l'avevo già detto l'avevo già detto esatto allora esatto oggi sono proprio stanche senza fantasia mettiamo l'armatura facciamo così benissimo benissimo allora ci cosa facciamo scaviamo ancora e costruiamo qualcuno vuole una spada di ferro no la do a il dottore il dottor maxis tieni x tg2x tieni la spada di ferro siano del legno io trasferisco tutte le cose nella casa quelle che ci sono fuori eh una casa decente eh di lo a lui perchè non è bravo a costruire scherzo scusa scusa non volevo sti mangio ok facciamo una casa decente ma la facciamo molto lontana perchè questa isola era bella all'inizio ti è diventato un aborto come te esatto grazie io ti dico esatto ti rispondo pure esatto noi siamo finiti io mi sono fatto la bone meal così facciamo crescere ti sei fatto la bone meal se questo scherzino qua da bambino figli chiamando c'è no mi ha fatto di soggere raccolto su zombi del cavolo cosa c'è chiamato la picca in ferro la picca in ferro ah la mia picca in ferro no c'è la tua picca in ferro si e mori e poi dietro no raiata per sbaglio me la ridata apposta ok ho capito mi sta per rompere ma ne ho una discorta ho sei se mi faceva il pane qualcuno si è preso dell'altro ferro per caso che era da cuocere non me la prendo è solo per chiedere se qualcuno è vero no no evviva ecco ciao io sto facendo il pane come ho giorno il giorno buongiorno cioè non è pieno sono uccitata un pochettino mettere giovane non credo no 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 io parlo questa sera non si città ahahahihi a no 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 cosa è la sua risolta ahahah Ok, questo qua la facciamo finta Che questo qua è un magazzino Se c'è un finta, in realtà la facciamo davvero però E la casa la costruiamo, non so, in mezzo al mare Tutta di vetro Casa di vetro Ah, ecco, io ho cambiato la skin da due episodi Ma l'avete già visto, quindi è inutile Uh, guardate qua, la canale a zucchero si sta Ma con un'altra comunica di di laser C'è un motivo La mette l'avete tutti? Vabbè, allora la metto nella cesta Magari si arriva Jack, Matteo O compagnia bella, brutta Il carbone, abbiamo finito tutto il tuo carbone, non ci posso credere Ma io ne ho 35 pezzi se... Ecco Tutto il ferro, non usarlo solo per te, mi raccomando Aspetta, tieni altri due pezzi che mi ha avanzato Queste è quel loro che ho trovato io, onda No, ma sono messi 8 miei Ah, io ho 14, non è vero Però guardate che dobbiamo condividere le cose, come su Facebook È giorno, che bello Ho lasciato un altro albero che è brutto quest'anno È moncherino quest'albero Vabbè che ho colori molto strani, vabbè Oh, ok, non ce la faccio più Non ce la faccio più Sto cambiando texture Benissimo Benissimo Perché stanno andando fuoco? Spero non io No, nessuno è andato fuoco Nessuno è andato fuoco Ehm Tutta mia roba Tieni Solo questo era Sì, sì, a parte l'armatura No, non ti ho robato nulla L'elmo è quello di Reynor, eh? Oh no, abbiamo un nuovo imperatore La mia corona Abbiamo un nuovo imperatore Te l'ha droppata davanti a Davanti a Davanti a Rai qua Dove sono io? La mia corona Cinchiniamo 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 a lei Ecco, mi sembrava Ah, tieni questa spada d'oro Chiunque Sì Combatti No, aspetta Ho un'altra picca di ferro, io No Sì 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 Ah sì, questa E l'altra? La mia? Ah beh, che se ne frega Io ne ho una Ne ho una non usata Qui Benissimo Allora Costruiamo la casa, direi No, ma il carbone, scusa E' qua C'è il 9 di carbone LOL Il mio carbone, che è scritto LOL No, ecco Vabbè, lascialo di tanto chi c'è Ehm, io direi, prendiamo tanta senso Ehm, er Prendiamo tanta senso e ci allontaniamo dall'isola Un pochettino, facciamo una piattaforma di senso Sì, il mio materiale è preferito Ehm, lo sento Sì Di cosa? Mi ha materiale preferito No, non tu Si può cosa? Di Di cosa? Fare quello che gli hai detto Sì che si può Cosa hai detto? Di fare l'isola credo E non so magari capita male Chi si è fatto male? Chi si è fatto male? io ah il ponte si facciamo un lungo ponte no ho finito piccone di nuovo ok questo ha più o meno un uso no scherzo ma quasi un cuore quest'isola ok avete già iniziato a fare il ponte? no perchè io lo farei in quella di da quella punta lì ma come la prima hai detto che c'era la terra a un certo punto si intanto c'è un'epera rendering extreme una di più di più di extreme ma non c'è non andiamo al mondo normale perchè sono poi una più divertente si perchè questo mondo qua stamattere bvg 3 a better world generation ha qualche bug e noi stiamo agitando 9 minuti beh la better world generation ha un po' di bug e non ti crea tutto il mondo come vuoi però noi non ci allontaneremo così tanto io sto cominciando a fare il ponte se volete abbellirlo perchè mi sta venendo uno schifo vi sento? si ok ok piove perchè mi sta venendo uno schifo piove perchè sono visto è un bioma planes si perchè non te lo conto come hai già non c'è via mail ok allora ora stiamo registrando da 10 minuti quindi direi di stoppare perchè per il problema di le bisogno prima che venuto 20 minuti se vuoi ne facciamo un'altra no adesso io devo andare a studiare ho già detto dovrei il dottor maxis caricherà se sta registrando quanto lo registrava adesso? adesso ha detto che registrava ok stai registrando tu? aspettiamo la risposta no sono un pirlo ok allora registri se vuoi registri alla fine non ho attivato fraps vabbè dai se registriamo dal quarto episodio tanto non c'è freddo ho sentito che si registrava benissimo facendo registrando su fraps poi lavorando con camtasia editando con sony vegas no virtual lab vabbè ok allora siccome stiamo registrando da tanto tempo non voglio fare un video lungo come quell'altro direi che per queste video tutto va bene? si si ok allora per queste video tutto da pin speeder insieme a venga 99 benissimo e sciaglilingua x dg2x eh 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 ma xd ci arrivo anch'io poi ma non c'è xd non c'è xd ah sì che c'è xd fail un altro fail le linee di benissimo eh magari però è mettendo un po' avanti per questo episodio è il prossimo è tutto e al prossimo video ciao